Anche a Pisa sono molti gli immobili dello Stato sottoutilizzati o addirittura in stato di abbandono. Con l'Università si studia come farli ritornare produttivi. L'Università è a sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Agenzia del Demanio per le attività volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Grazie all'impiego della Building Information Modeling, la metodologia innovativa per la filiera delle costruzioni, divenuta da alcuni anni una priorità strategica del nostro paese, che consente un notevole risparmio di costi e di tempi di realizzazione rispetto a qualunque altro metodo tradizionale. Per questo l'Università Pisana inaugura un nuovo Master. Nasce proprio per permettere a chi desidera di avere una formazione in una così importante, così attuale tecnologia che adesso diventerà parte integrante della digitalizzazione degli apparti pubblici. L'Università di Pisa offre questa possibilità fra le pochissime a livello nazionale. A Pisa un patrimonio demaniale importante ma che necessita sicuramente di manutenzioni. Come tutte le città storiche ha un patrimonio molto significativo di svariati milioni di euro in valore. Ci sono anche dei compendi molto importanti come vecchie caserme in parte abbandonate che devono essere totalmente funzionalizzate e rese utili per la comunità. Il BIM è uno strumento che ci aiuterà a rifunzionalizzarle al meglio mettendo a fattore comune tutte le professionalità dei soggetti che progettano ma anche di quelli che gestiscono e fanno la manutenzione. Quindi possiamo dire che zone come quella del distritto 42 in centro a Pisa da anni nel degrado presto riviviranno? Sì, proprio su questi temi stiamo ragionando con l'amministrazione comunale. Stiamo chiudendo un accordo importante attraverso anche il federalismo demaniale beni di rilevanza notevolissima per la città di Pisa e useremo questo strumento per la progettazione.